E là ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Range Simulator Ragazzi, non so da solo, sto qua in compagnia di MidiCaccio Quina ragazzi, ciao belli E non solo ragazzi, sono anche in compagnia di tanta bella gente perché mi trovo attualmente live su Twitch se vi fate venire a trovarmi su Twitch trovate il link in descrizione per farlo in descrizione trovate anche un link che vi permette di comprare questo gioco e tanti altri scontati trovate il canale di MidiCaccio e tanta altra roba Allora ragazzi, stiamo giocando con la beta del nuovo Range di fatti ci fa cominciare da capo dobbiamo cominciare da capo perché è cambiato tutto 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 è cambiato quindi bisogna per forza ricominciare da capo questa è la beta tecnicamente l'aggiornamento ufficiale dovrebbe arrivare il 15 di luglio io spero che poi il 15 di luglio non ci fanno ricominciare da capo però da qui fino al 15 luglio abbiamo questa beta da giocare poi dal 15 in poi di luglio vediamo che cosa esce quindi per ora abbiamo questa beta quindi praticamente è cambiato tutto raga è cambiato tutto di fatti come potete notare è proprio cambiata la mappa è un'altra proprio è cambiata la mappa è cambiata pure quella è proprio cambiato tutto io non sono cambiato eh di fatti lui è sempre brutto allora i miti è sempre i miti segui l'icona blu e leggi la lettera praticamente stiamo cominciando proprio da zero ero ero ma è tutto più bello compa tu non lo vedi tutto più fluido non lo senti più fluido ma penso allora leggi ciao nipote se stai leggendo questa lettera significa che hai accettato rispettare le mie ultime volontà bla 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 grazie nonna arrivederci buona tomba eh mi dissocio accendi la radio sul muro trova la tenda ma perché la radio che mi danno i copyrights vabbè poi ci vado no non c'è non si sente niente vabbè tranquillo trova la tenda l'ho trovata che devo fare salva gioco va bene so già a che serve la tenda oh mi sono incastraeto allora allora veniamo un po' mo quindi è cambiato tutto 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 e adesso raga possiamo anche piazzare le cose dove vogliamo noi non più dove diceva il gioco mo le cose le mettiamo oh diamine dobbiamo buttare giù tutta questa cassa si io lo faccio oggi per la terza volta trova il baule al piano di sopra e io già sta roba cioè ricordo che l'avevamo più o meno fatta si nel primo eh si 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 tu sempre l'inizio no un po' eh enter beh ti inizio a cancellare un po' di cose fuori va eh si mi sai che conviene perché qua è lunga oh 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 demolire no non devo demolire oh la pistola del nonno prendi questa a rivolvere nella foresta ci sono tanti animali vabbè lo sappiamo che si può cacciare abbiamo già fatto tutte ste cose allora dobbiamo demolire ta 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 banane che demolisco premi per demolire ti serve mi serve una cosa non devi demolire tu compa e che devo demolire 13 altro 13 altro a sinistra ah la macchina non devo demolire hai ragione compa ma allora tu che cosa stai a fare invece sto demolendo se te levi grazie ok andando che si diverte a demolirmi casa diverte proprio io devo andare a riparare la nostra prima auto se vi ricordate premi prendi la ruota metti la ruota prendi gira la ruota si gira la ruota gira la ruota allora dice che questo veicolo ha quattro ruote compa certo stranamente ne ha quattro guarda se era un'ape ne aveva tre ma noi siamo riusciti a farla andare pure su due ruote quel mi ha perso la ruota aspetta allora ci vuole un paraurtus il serbatoio e due posti a sedere vabbè ma miti si può sedere anche per terra ma certo tanto ma stai scherzando ma perché ci devo mettere il cosino no io non sto laggando qui va tutto bene no no non lagga niente ma va tutto bene non mi fate pigliare i colpi mi manca una sedia e il serbatoio ma perché senza serbatoio la macchina non va eh c'è ma guarda dove si trova una delle cose che servo a me questa è quella di miti guarda dove si trova lontanissimo allora e la macchina c'ha la sedia ora mi serve il serbatoio ci mettiamo qua allora questa è la mia macchina la mia macchina piglia la tanica perché è vuota tanica posizionata ok allora compaio devo andare a stazione di servizio che sono a si e co e vuoi che devo venire o ti smonto casa no no continua a smontare casa compa allora come potete notare ecco il primo albero l'ho già preso come potete notare raga è cambiata tutta la mappa è completamente diversa poi chiaramente non lo so io se io non lo so se poi in futuro la cambiano di nuovo sta mappa beh secondo me aggiungeranno altre cose compaio cioè veramente tanto da si vedrà non hanno sistemato il fatto che però devo ricaricare io la cavolo di pistola e compaio nella vita reale c'è qualcuno che te la carica quando si scarica hai ragione forse non lo so e chi è sta roba qua eh ma che è cervo io devo andare a far carburante e sto ammazzando tutti i cervi che trovi in giro papà cosina qua almeno faccio 2 lire visto che siamo senza lira abbiamo ricominciato da capo non ci abbiamo manco un soldo e fino a qua insomma è il solito range per ora ma io direi che vado a vendere sta roba dove è l'emporio? qua vado un attimo all'emporio va che almeno faccio 2 lire con sta carne perché è inutile che me la tengo la beta è disponibile per tutti? sì dovete andare su steam fare proprietà nel gioco andare su beta e da lì selezionate la beta no questo gioco non mi pare che ha delle mod allora io qua però aspetta visita l'hardware store io da qui in teoria posso vendere no? allora lui non dice aspetta non dice che devo comprare lui per ora dice che devo andare da qualche altra parte ma che ne so io perché devo segui la strada? devi andare devi andare al punto no compatti fai vedere tutti i punti nuovi ma orca miseria come ci vado qui c'è una montagna da scalare eh devi seguire la strada fra non puoi fare più quelle strade che facevi una volta che prendevi le scorciatoie poi c'è una montagna ma e io invece la montagna l'ho bypassata eh oddio oddio vabbè che vai con par range simulator controllata ma fa esperienza guarda capriola simulator guarda ma dove cavolo ti vanno? che stanno vedendo i miei occhi senti un po' ma quando strada devo fare per arrivare e falla la strada no? falla io ragazzi lo sto vedendo in anteprima ecco perché riesco a vederlo alberi muri di tutto e di più sta prendendo allora allo store have terminal bravo qui è ah qui eh scusa io dovevo vendere la canna l'ho venduta vabbè ah allora devi comprare dice un accetto un piede di porco e un chip table sub chip table ce l'ho un accetta e un piede di porco e io quasi quasi mi compro pure un bel frigo anzi due guarda che quello serve sempre uno 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 compa sentimi di caccio tuo uno 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 ok si si hanno aggiunto un po' di cose nuove raga chiaro di fatti hanno aggiunto due seghe una lenta e una veloce quindi in pratica bisogna cominciare con quella lenta senti un po' ma qui da dove cavolo si entramo? senti ma come si da l'altra parte compa e qual è l'altra parte? devi devi seguire in maniera stretta la strada che ti porta su mi quanto è complicata la vita dici di qua eccola piano 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 c'è una piccola salita ci sono gli alberi beh poi quegli alberi li togliamo davanti più in là meno male che la seghe circolare è minuscola guarda occupa più spazio occupa più spazio la carne della seghe circolare più quella è tutta da montare compa parla con la venditrice ora devo andare dove ero prima si è la beta di ranch raga è la beta dove cavolo devo andare? questa è la beta di ranch difatti hanno cambiato tutto hanno cambiato la mappa e se devo dirvi la mia sta mappa non è che mi fa impazzire non mi piace molto sta mappa perché mi pare un po' meno meglio organizzata non lo so pare un po' tutta non lo so l'altra era bella c'erano ancora la devi imparare questa ma io no perché io dico l'altra mappa tipo l'altra mappa c'era il coso dei cavalli c'erano cose chiuse che tu dici vabbè cavolo qui ci metteranno quello ci metteranno quest'altro invece hanno cambiato tutto eh ma io oggi me la sono visitata la mappa ci sono quei cosi in altri punti più gestiti perché prima non c'era molto spazio comunque si abbiamo ricominciato da capo perché per forza è cambiato tutto vabbè io qua già c'ero stato ho comprato quello che dovevo comprare ma che bello stesso posto più o meno gli diamo il benvenuto addio ah cestino delle uova più due polli devo comprare due polli e un e poi dove vabbè e un cestino delle uova e il sacco di grano no che gli do da mangiare banane no 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 sta qua in farm vabbè io l'ho comprato torna indietro te l'intanto hai demolito ah si perché mi serviva il piede di porco e il l'ascia e quello ti è apparso mo che li ho comprati vero? eh si io piglio scorciatoi ma che è stu cosa? davanti cacchio qui te rollo tutto sei tu sto smontando tutto compa ti sto buttando casa a terra si aspetta un attimo dov'è cosino per salvare la partita? la tenda e dov'è? la affianco al garage ma quella non l'hanno spostata sa va la partita non si sa mai allora polli tirati fuori e io che tiro fuori il pollo? vesse e mancime cereali trovati aspetta eh si le traduzioni lasciano un po' a desiderare però che devo fare? ah ok devi mettergli là dentro i polli qua? dentro il garage si dentro dove c'è il frigorifero lo appoggi prima per terra e poi premi là e sopra aspetta secchio trovato ah e l'acqua dove i ammetti? hai anche 100 dollari ah al secchio no 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 compra small chup blueprint built e che cacchio eh? è il pollaio compa ah questo small cop ok metterlo in un posto bello però compa puoi metterlo dove vuoi tu vabbè tanto pure che lo piazzi lo puoi ritogliere non te lo costruisce subito vabbè lo metto qua dai come si costruisce? ora ti dice cosa serve se ti avvicini vicino aaaaa prendi la tanica mi oh per tu galline tutto sto lavoro c'è da fa eh compa le cani ci vogliono bene la tanica sega cosini sega cosini li metta la mettiamo qua sega circolare arrivano mille dollari compa eh arrivano mille dollari si ok spegni butta giù l'albero tronco di legno lavorato ok vedete come è cambiato tutto sul rosso è sbagliato si non me la fa piazzare su qua nel rosso si ah sto tagliando la legna per ok questa cosa qua te la posso togliere con pa togli quello che devi togliere ah ce ne vogliono 15 vabbè butto giù questi alberi già va bene ce ne vogliono ancora tre ok quindi due tronchi ma scusa ma allora che mi hai fatto mettere il concime qua dentro per niente per terra lo fa mettere il tutorial compa e io ma come lo raccolgo da per terra e niente lo devi lasciare stare là ma che stai a dire è così è il tutorial compa che vuoi da me è il tutorial che ti fa mettere il coso là se no non ti da la missione per andare avanti ma che cacchio vabbè e allora io sai che ti dico le metto qua almeno solo magnano quel pochino oh stanno a fare le uova sulla macchina ah brave brave ok fatto al contrario io veramente ho fatto proprio apposta per con graduazioni hai completato le missioni introduttive ora conosci le basi delle meccaniche puoi andare a esplorare costruire acquistare allevare bestiame veicoli caccia glossario bla 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 vabbè cose che più o meno sappiamo già allora con paura vieni eh ma ora tipo là dentro come ci costruisco io il food truck vieni qua e costruisci vieni qua con pa e la casa la vuoi fare qua dove la vuoi fare dici tu il punto della casa no no allora un momento quale casa finiamo con i con le galline che me frega ora della casa aspetta non ho fretta della casa no no a me interessa completare quello che abbiamo iniziato la casa possiamo dormire la tenda e questo non puoi fare più niente questo non puoi fare più niente a meno che devi costruire un'altra casa delle galline più grande no non ho capito scusa è l'acqua come iato qua dentro il cibo come iato eh allora mo ti faccio vedere come devi fare fra mo ti faccio vedere fra te perché io l'ho scoperto da me via il secchio ma purtroppo è una cosa che non hanno pensato però io l'ho fregato perché l'esperienza su questo gioco oramai ce l'ho peggio di chissà che cosa allora metti metti il secchio da dentro ci riesco ok e te dici che si auto riempie? si 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 qualcosa ovviamente finisce l'acqua dove sta il secchetto del grano che stava qua? eh no tutte e due a terra le buttate? no 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 ce l'ho io ce l'ho io ok quello buttalo dove c'è il cosino già dove c'è là dove c'è l'acqua si mettilo a terra e aprilo lì ok prendi le galline e portale qua dentro e per il momento abbiamo questo piccolino no la beta tutti la potete avere raga ripeto basta che andate su steam clic destro nel gioco proprietà beta e selezionate la beta tutto là niente di più e l'altra gallina dov'è? ma abbiamo perso la gallina qua rimasto aperto tu no? mannaggia il ciuccio gallina bucci bucci mo' donnata questa oh ma come ha fatto a fare tutta sta strada? ah qua 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 è mazza oh mi ero sfuggita a gallina mi ero pesce oh subito a uscire eh e che c'è stanno due secondi a posto un po' pigliamo ste uova ok però è peggiorato da un punto di vista se mi tocca far così però aspetta eh piglia il martello fammi vedere c'è la mangiatoria ma è enorme ce ne sarà una più piccola di fatti eccola qua quella piccola ecco vedi dov'è? qui è è compato con l'inglese lo mastichi io no eh aspetta un attimo eh sì però aspetta io mo' che apro quella ah fammo così ah c'è pure quello dell'acqua no questo è grosso dell'acqua small feeder small feeder si apre sopra ma vero è mamma mia con po' eh non le so io questo qua grazie raga ma che non lo sapevamo eccolo vedi ok io mo' lo vorrei mettere là per terra però non si può fare e se lo metto lì ok lo metto qua visto? sei plank ancora one purtroppo non possiamo dormire tutte e due sulla tenda ma continuo a tagliare compà così almeno abbiamo un po' di legna extra tanto lo so che serve mo' no 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 vabbè quello volevo dire quei due va tanto per consumarli tanto serve compà appunto allora costruito compà guarda guarda metto l'acqua lì ma in teoria è quello del cibo no in teoria c'è scritto che piglia tutte e due aspetta perché qua non si legge niente con sta torcia qua dice una piccola mangiatoia ah hai ragione compà può essere può essere riempita o di cibo o di acqua e allora mi sa che bisogna farne due è un po' un problema perché lo spazio è scarso togli quel secchio e quell'acqua a posto a posto fatto fatto una a destra o una a sinistra più o meno peccato che non si vede niente ragazzi ho un mucchio di buio tieni premuto ah ma ci entra un secchio alla volta questa cosina piccola un secchio alla volta ci entra compà non di più va bene buono abbiamo un po' di legna da parte Va bene ragazzi vedo che comunque il tempo è volato ahimè Quindi per ora ci fermiamo Comunque sia questa beta pare che ci offre tanta bella roba Soprattutto qui ragà con tutto quello che c'è da costruire Quindi ripeto la beta dura fino al 15 di luglio Poi esce normale Quindi poi insomma uscirà l'aggiornamento Non lo so se poi il 15 di luglio bisogna ricominciare Però almeno fino al 15 di luglio con questa beta ne abbiamo di cose da fare Poi il 15 di luglio si vedrà cosa ci sarà Quindi ragazzi per ora concludo questa registrazione Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Miti Vi ricordo che in descrizione trovate il mio canale Twitch Passate a trovarmi live Un link per comprare questo gioco scontato anche in descrizione E tanta altra bella roba Ragà vi salutiamo, ciao alla prossima Ciao 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 Ciao